Sono due crisi non confrontabili, quella degli anni 90 e quelle attuali. Allora ci fu un terremoto giudiziario che tranciò di netto l'industria dell'edilizia in Sicilia e ci fu una risposta, per carità, una risposta in termini di programmazione della politica. L'Etna Valle in questo senso è un esempio virtuoso. Oggi non è più così. La crisi a livello mondiale è più forte, economica e finanziaria e le proprietà delle grandi imprese a Catania si sono dimostrate deboli, deboli imprenditorialmente e soprattutto managerialmente. Scenari futuri? C'è fermento, c'è voglia di fare impresa, le strade del fare impresa per fortuna sono tante. Il problema è che spesso in queste strade ci sono tanti ostacoli e poche facilitazioni.